Andiamo, andiamo, andiamo Non spatecarti su un blocco a fare così Ci sono i blocchi, vai, insegui, metteci il corpo Stanno dando la palla dentro Metti pressione alla palla Perché se no la danno dentro Uno contro uno, Medeo Dai, dai, dai Bravo lui Dai, andiamo Bene l'angolo, bene, Medeo Rola, Ricci Eh, Fede Via Manu e Gare di cambiare uomo Manu prende Prato Non è vero se non è fatto Sì Manu, Manu Ragazzi, se tutti i piccololi li facciamo per tirare Non riusciamo a fare un c***o Prendo, tiro, jumper Prendo, tiro, jumper Prendo, tiro, jumper Va bene Però proviamo ad avere l'idea di fare questo e di creare Allora come? Facendo dei buoni blocchi Allargando lo spazio Rollando forte Voglio vedere immediatamente una palla dentro a Jay Lane Dai Bravo Jay Lo proviamo perché se non va il cronometro non va il venticolo Via, via, tutti a casa Dove va Bonaccini? Ma dove va? Via, via Ridagliela Ok, ok Brava, brava Demis Siccome dobbiamo aspettare cinque minuti Ci fidiamo di loro che chiamano loro i ventiquattro come allenamento Dai, invece di fermarci Dele Eh, no, you have to box out Simple Leggi Leggi Bravo Riccardo Eh, eh, sì, sì, sì Dai Che ormai giochi in Serie A da 73 anni Se qui muori con la Palimano Non gli apri un contropiede A me Usalo bene il blocco Aspetta il blocco Sennò devi fare un'attacca Così prendi vantaggio Ok Quick Aspetta Adesso Rolla Adesso alla terza schiacciata Cosa hanno fatto? Si sono chiusi Avevi il and in completamente libero sotto Vai Corri, corri qua, veloce Abbiamo zero falli Dai, dai Abbiamo zero falli di scuola Viamo, dai Io facevo 2 più 1 Poi li ho dite voi Gelen, 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 gelen Cambio I want to see if you are ready Stefano Antenne tirate su Controlla tutto in questi 20 minuti qua Ok Sì Guarda uno che Fa così con la faccia Controlla tutto Mi raccomando Sono i 20 più importanti Più importanti della preseason Ok Allora Primo Tu rincoglionito Viene giù la palla C'è un tiratore Non puoi andare a under sul pick and roll Primo Poi sei grosso E under non lo usi mai L'andinga Dei attacchiano qui Il tuo uomo è qui Certo? Amedeo Faccia la palla E tu cosa fai qui? Stai? No E' un tiratore Quindi vai Tu resta un altro Bravo 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 ulo Ho fatto una cosa intelligente C'è un quadro che aspetta Coppiati qua Medeo, qua, 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 bravo, bravo, Ricchie è tuo, nice shot, Nico, riesci a parlare e dire switch, switch, e dirgli prima, eh cambio, qua ci sono gli americani, eh che devo fa, perché a Ferguson gli dicevi cambio, eh sì, è arrivato lo sinistrato da palacanestro, nice pass, bello, dai, ehi, Vigori, Guarda, guarda, guarda che pila la bomba è colpa tua, guarda là, dai Vigo, muovi i piedoni, Vigo, muovi i piedoni, Mussini che c***o hai chiamato, mi sembra di aver sentito che tutto il pala, allora, allora, if we have one side three, listen, no palla subita a mano, basta che tu sei playmaker e fai incrociare lui, adesso facciamo fare l'azione di palacanestro a Marcosvili, vai con calma, cioè tu, c'è un uomo attaccato a guerre, non puoi sparargli un passaggio nei corni, giochi di là, manca in sei secondi, l'ultimo piccarolo, devi giocarlo per attaccare, Ah, ma devi sentirlo, devi guardarlo, eh, è la ciccio Under sul loro tiratore, tre più uno Musso, non la tiriamo o la finiamo? No, Musso, Musso, giocala, Demis, Demis, la giochiamo, va bene? La giochiamo l'ultima, così gioca lui, no, 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 se no il bambino non giocava Grazie, Demis, oh, bocca al lupo, la giochiamo il lupo, anche a te, ciao raga Grazie 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 Grazie